voglio dire ringraziandovi per questa bella accoglienza che questa sala mi ricorda qualcosa esatto direi perché il primo evento pubblico che io ho fatto lo scorso anno non eravamo qui eravamo a Milano ancora prima di diventare presidente del consiglio dei ministri allora ha portato bene questa è una stagione nella quale non ci stiamo facendo mancare niente nel senso complessa da gestire siamo chiamati ogni giorno a fare scelte che sono difficili che facciamo con il cuore che facciamo con determinazione e sapere che gli italiani le persone che lavorano che ogni giorno ce la mette tutta no nel proprio piccolo e in un luogo come questo posso dire amando la propria nazione amando la propria specificità amando quello che ci contraddistingue sapere che viene compreso sapere che viene compreso davvero fa tutta la differenza del mondo ci sono risorse che vanno concentrate sulle cose importanti e le cose importanti in italia sono imprese lavoro redditi famiglie e su questo noi lavoriamo quindi grazie a voi grazie per il vostro sostegno mi regalate una grande emozione stamattina grazie